ciao a tutti ragazzi bentornati alla serie di red dead redemption e benvenuti a questo nuovo video nella scatata precedente abbiamo radunato le mucche poi le abbiamo portate al pascolo indovinante cosa facciamo domiamo di nuovo i cavalli insieme all'unzio così rimetteremo in vendita in diversi negozi questo praticamente si chiama import exporter io ho un'idea faccio partire la velocizzazione finché non abbiamo ancora raggiunto la nostra destinazione 3 2 1 via bene eccoci nuovamente qua abbiamo finalmente trovato il branco prendiamo il razzo e lo usiamo per catturare un cavallo selvaggio l'importante è armarsi di pazienza pazienza sapete quanta ce ne vuole per domare un cavallo del genere tantissima anzi fin troppa dobbiamo essere più prudenti possibili allora miriamo giriamo il razzo e poi lo tiriamo e un cavallo selvaggio addestrato adesso montiamo il cavallo selvaggio addestrato adesso montiamo su un cavallo selvaggio pronti via doniamo il cavallo possibilmente facendo attenzione a non farci buttare giù da sella centriamo centriamo e poi il cavallo sarà domato centriamo 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 finché il cavallo non è ben addestrato perfetto abbiamo addestrato un cavallo adesso torniamo sul nostro cavallo e poi prendiamo al razzo un altro cavallo selvaggio poi lo addestriamo siete pronti? perfetto e adesso pronti? e adesso pronti? anzi una piccola per il cavallo a posto pronti? 3 2 1 montiamo su un cavallo selvaggio e ne addestriamo un altro centriamo che bello domani cavalli che bello domani cavalli che bello far mettere i cavalli in commercio così qualcuno li comprerà e avrà un gran successo come bello, come bello, come bello, come bello far mettere i cavalli in commercio troppo bello, troppo bello, troppo bello, troppo bello, troppo bello, troppo bello domani cavalli troppo bello, troppo bello, troppo bello, troppo bello, troppo bello, troppo bello che va a questo lavoro questo lavoro è un grandissimo spettacolo Perfetto, un altro cavallo addestrato E montiamo nuovamente sul nostro cavallo Poi prendiamo all'azzo un altro ancora cavallo selvaggio da poi addestrare 3, 2, 1 E si doma un altro cavallo Montiamo sul cavallo selvaggio E poi, centriamo Bisogna portare pazienza Per domare un cavallo del genere Bisogna solo portare pazienza Per addestrare i cavalli Altrimenti un gran bel problema Se non centriamo Va a finire che cadiamo E ci facciamo male Malissimo Ci rompiamo qualcosa Ad esempio O il braccio O la gamba Poi finiremo dal dottore Portiamo pazienza ragazzi L'importante è sempre questo E voilà Cavallo addestrato Chissà Che è ora di tornare a casa Allora Finalmente Abbiamo finito Abbiamo finito questo spettacolare e fantastico lavoro Ed è il momento di tornare a casa Ed è il momento di tornare a casa Per fortuna Non c'è stato niente di così pericoloso E voilà Destinazione raggiunta Adesso cambiamo argomento Allora Probabilmente Siamo abbastanza vicini Alla fine Della serie di Red Dead Redemption Vi lascio al filmato Facciamo assicurare che c'è abbastanza fresca Abbiamo bisogno di mantenere Abbiamo bisogno di mantenere Allora D*** Una piccola gratitudine Non ti matirà Non è un buon giorno Se questo video vi è piaciuto Lasciate un like Se volete Iscrivetevi al canale Per questa puntata È tutto Io vi saluto E vi do appuntamento Al prossimo video Ciao a tutti Ciao a tutti